salve cari amici miei di pimenta sono io l'uomo tigre quello autentico come state ho visto che molte volte vi ascoltate le sigle con ore di zio ammos ovviamente la ossa preferita è la mia canzone vero sono molto contento e oggi sono qui sono qui in carne e ossa per salutare tutti i bambini di cagliari e anche tutti i bambini di pimenta che anche loro sono i miei grandi fans vorrei andargli a trovare tutti purtroppo con questa bella epidemia l'uomo tigre alle mani legate e a proposito bambini di cagliari bambini di pimenta mi raccomando fate sempre compiti obbedite sempre a vostri genitori e non sgarrate nemmeno di un secondo perché io l'uomo tigre vi controllo capito bene sono sicuro che molti di voi oggi hanno fatto i compiti e si sono divertiti ovviamente c'è qualcuno che gioca calcio lì dalle parti di pimenta e sono sicuro che ci sono molti bambini che vanno a parco a giocare bene io so tutte queste cose perché me le riferisce mio amico zio amos io vorrei salutare anche nicola cogoni e michele cogoni ma ragazzi ci vediamo forse l'anno venturo nello stabilimento bagnare il ciringuito per il momento vi saluto e ci vediamo il più presto possibile firmato l'uomo tigre quello autentico ciao